Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Val di Chiana e Chiusi. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra, Fiorentina ed Empoli Est. È chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!